Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco, stavolta c'è anche Francesco dell'Istituto Meditrano Studi Politeisti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo del Piazzale Parmesano Ottomarghera l'indirizzo dell'Istituto Meditrano Studi Politeisti, Casalapostale 53, Malostica, Vicenza Dimmi Francesco, finalmente ci hai fatto Faccio gli auguri di buon solstizio, di buon Saturnale a tutti quanti gli ascoltatori saluto anche gli amici che hanno partecipato alla cena per il solstizio purtroppo era una cena che per problemi logistici, cioè che lo spazio era poco all'interno del locale che avevamo preso, non l'abbiamo neanche annunciata proprio perché era già satura nel momento in cui se ne era parlato è stata organizzata da altre persone vicine a noi e praticamente c'erano solo 4-5 posti a disposizione 6 posti per cui non voleva neanche la pena di chiamare le persone un po' li avevo occupati io e con gli amici, di conseguenza avevamo satura saturi comunque è stato un bel evento, vi posso dire che è ben riuscita anche se la cena era orientata sulla ritualità di tipo celtico è ben riuscita insomma nel senso che si è fatto un riferimento maggiore visto che gli organizzatori si rifanno a quel mondo, al mondo celtico e perciò ha avuto quelle impronte insomma bene Francesco, allora tu non sei venuto per due volte consecutive e io ho tenuto a bado un po' i radioascoltatori con un po' di cosette e riprendiamo un attimino a parlare un po' di quello che ci sta succedendo un po' attorno visto che continuerò io stasera con il discorso sulla percezione una cosetta devo dire che in effetti stiamo rilevando tutta una serie di difficoltà sia in internet sia in varie parti per riuscire a capire quello che è il discorso del paganesimo che stiamo facendo ed è una difficoltà che si riesce anche un po' a capire cioè nel senso che di solito quando qualcuno fa dei lavori sia i lavori religiosi, filosofici, sociali, politici si riferisce sempre a un già conosciuto cioè a qualcosa che già esiste in maniera preponderante faccio un esempio della mia esperienza dei movimenti, dei gruppi extra parlamentari da sinistra degli anni 70 si riferivano a tutto un pamplè filosofico che ormai andava avanti da 150 anni per cui le persone avevano una certa dimestichezza diciamo così con il linguaggio, con i principi eccetera quello invece che stiamo facendo noi non ha dimestichezza col precedente una struttura filosofica che abbia il suo centro la libertà non è mai esistita o meglio, esisteva il concetto di libertà come uscita da qualcosa che opprime cioè da una verità rivelata gli uomini sono spinti a conquistare una libertà a conquistare delle libertà però la filosofia portante è quella della verità cioè quella del Dio creatore è sempre quella del pazzo di Nazareth è sempre una verità dottrinale riferita a un essere superiore un essere trascendente riuscire a far comprendere alle persone la filosofia della libertà è libertà in se stessa cioè come movimento della vita dalla nascita fino alla morte come trasformazione soggettiva come trasformazione del soggetto come capacità del soggetto di costruirsi di divenire, di trasformarsi è una cosa che è quasi inconcepibile nella società in cui viviamo e le persone fanno effettivamente fatica a capire questo anche perché quelle che sono le trasformazioni soggettive le persone le riferiscono sempre alla loro ragione cioè se io dico per esempio tu puoi mettere in moto delle forze di autoguarigione dentro di te le persone si immaginano immediatamente di star male non so del cancro e di guarire dal cancro cioè non si rendono conto che esiste una trasformazione sistematica della propria struttura psicofisica fisiologica che va verso a un affrontare in modo migliore quelle che sono le contraddizioni della vita in pratica non siamo abituati alla filosofia della libertà per questo io capisco le persone che fanno fatica a capire perché le persone sono abituate a dire tu fai questo e ottieni questo ma quando si dice tu fai questo e ottieni questo appartiene sempre alla filosofia della verità cioè facendo questo ottieni questo ma questa è la verità rivelata dal Dio non è la libertà dell'uomo tu facendo delle cose modifichi te stesso e ottieni delle soddisfazioni che continuano a modificare te stesso che ti viene meglio ad affrontare la vita che affronti ancora meglio la vita ma le tue trasformazioni sono sempre un tuo essere naturale nella vita cioè tu lo consideri sempre una condizione naturale e questo facciamo effettivamente molta fatica a trasmetterlo vogliamo dare una dimostrazione tu parlavi di malattia diamo una delle tante conferme che noi abbiamo avuto e che sosteniamo tutti quanti sanno appunto che noi parliamo molte volte di antiche conoscenze di culture sciamaniche bene allora domenica 3 dicembre il Corriere della Sera scrive che sono ripresi gli studi su alcuni funghi cosiddetti magici ecco secondo questi studi contemporanei nel 79% dei casi siano risultati positivi il 79% dei casi mi sono matanza alto ma dice ricerche sui funghi allucinogeni non state i condotti negli anni 60 e 70 ma sono state successivamente abbandonate per motivi etici cioè significa che di fronte a un prodotto naturale che in tutte le culture non cristiane l'uso erboristico, l'uso della conoscenza delle piante veniva fatto è stato abbandonato non perché fosse nocivo perché adesso le analisi danno il 79% dei risultati positivi ma per motivi etici e quando parliamo di motivi etici nella nostra società sappiamo che sono principi cristiani perciò se molta gente non si è stata curata è perché i motivi etici cristiani li hanno quando sono stati abbandonati quegli studi Francesco? si parla negli anni 70 ma sono stati abbandonati per motivi etici quando praticamente Castaneda stava parlando dei funghi allucinogeni e l'uso delle piante allucinogene perché la teoria degli anni 70 che poi viene fuori da Castaneda e viene anche da altri filosofi di quel tempo era che le piante allucinogene aprivano delle porte della percezione aprendo delle porte della percezione le persone non erano più dominabili in realtà avevano tutta un'altra serie di cose sono esperimenti fatti in campo neurologico non è che sono in maniera di alterazione della percezione ma soltanto per curare esempio in questo caso la depressione e dagli risultati fatti dal punto di vista scientifico e medico hanno dato quasi l'80% dei risultati positivi mi sembra che sia una percentuale discreta specialmente la depressione che è quasi incurabile se le persone non trovano delle forze dentro di loro comunque c'è delle difficoltà a capire quello che stiamo dicendo ma d'altronde noi non è che ci possiamo fare niente cioè le cose stanno così bisogna cambiare un po' anche l'ottica con la quale ci si mette davanti alle cose io mi trovo per esempio spesso a dover discutere con dei pagani che chiamano se stessi pagani in realtà sono neoplatonici però non sanno esattamente cosa sia il paganesimo non sanno cosa è il mito non sanno interpretare il mito e lo interpretano dal punto di vista platonico e neoplatonico a me mi cascano le braccia però è un dato storico che è così non è che ci siano alternative comunque insomma questa è la condizione in cui ci troviamo Francesco già è un discorso delle persone che possono avere la confusione o la non chiarezza o la mancanza di conoscenza di certi elementi la cosa appunto è più diversa quando si troviamo volutamente di fronte ad un artefatto o una cosa voluta desiderata di creare confusione di creare menzogna di creare inganno e di raccontare le cose in maniera diversa raccontavo voi sapete gli ascoltatori conoscono moltissimo il caso di Wikipedia perché appunto Claudio ne ha avuto una discussione una battaglia e così via io sono rimasto lì a cercare di rattopare ove possibile le cose però mi sono accorto che la tendenza monoteistica all'ingannare a raccontare bugie a falsificare le cose è presente anche nelle cose più sciocche più scontate facevo l'esempio appunto a Claudio che mi sono trovato a correggere una voce di storia medievale che parlava di un'antica città presente a Cipro in cui il mito voleva che la Dea Venere non accettasse o Afrodite che è più corretto per i greci la Dea Afrodite non accettava sacrifici umani di stranieri e a raccontare questi sacrifici gli abitanti continuavano a sacrificarli le persone che arrivavano a un certo punto la Dea adirata arrabbiata con questi abitanti li tramutò in tori questo lo scrive Ovidio nelle metamorfosi nel libro decimo per di conseguenza se noi vogliamo partire da un dato storico cosa dice Ovidio bene chi ha scritto quella voce ha detto che gli abitanti furono tramutati in tori perché non conoscevano la divinità di Afrodite quando non esiste e tra l'altro nella discrezione di questa città famosa appunto a Cipro per il ricorso dell'arte della trasformazione dei metalli questo punto non è stato neanche citato Ovidio che ne parlava e si viene a scrivere cose completamente false insomma e questo dimostra come la volontà dei monoteisti di ingannare e di raccontare bugie è presente dappertutto insomma io mi sono trovato un altro caso un po' diverso ma comunque che spiega anche molte cosette una persona chiedeva in un gruppo di discussione la differenza che c'era la discrepanza che aveva trovato in Apocalisse di Paolo voi sapete che esiste l'Apocalisse di Paolo fu trovata a Nagamadi e diceva che non riusciva a capire perché da un lato c'era un Apocalisse e c'erano scritte delle cose dall'altro lato c'erano scritte delle altre cose ora io le Apocalisse di Nagamadi ce le ho e ho fatto una piccola ricerca per cui ho scoperto che ne esistono due Apocalisse di Paolo e il problema è che nel fare questa ricerca mi sono accorto che nell'Apocalisse di Paolo l'ho trovata a Nagamadi i cristiani erano reincarnazionisti cioè praticamente Paolo di Tarso era per la reincarnazione ora se voi vi leggete i testi dei Vangeli di Paolo di Tarso quando parla della risurrezione della carne sembra un concetto cristiano ma in realtà è un concetto di derivazione reincarnazionista che dopo venga troncato perché Dio fa risorgere nella carne per cui non c'è tutto il processo della metempsicosi della reincarnazione dell'animo quello è un altro discorso però in realtà quel discorso sulla nascita nella carne è derivato proprio dal discorso reincarnazionista ed è di derivazione neoplatonica stoica e neoplatonica probabilmente per cui questo l'ho scoperto appunto facendo questa ricerca poi ho scoperto oltretutto che nella seconda apocalisse di Paolo in realtà è il fondamento della divina commedia di Dante perché la seconda apocalisse era molto diffusa e c'è il viaggio all'inferno sono due apocalissi completamente diverse l'una all'altra però è abbastanza interessante riuscire anche a scoprire che in realtà i cristiani all'inizio avevano tutta una serie di idee e vi ricordo questa apocalisse datata al 200 dopo Cristo che non collimavano assolutamente con quelle che sono ora insomma anche perché ti dico oggi come oggi anche molti che si dichiarano pagani fanno molta confusione fra le idee io scopro le cose un po' alla volta però sta di fatto che quelle cose ci sono si ma tutti quanti lo sanno che il monoteismo è un'invenzione un'invenzione fatta per la sottomissione e fatta per creare sofferenza e che non è stata una rivelazione ma è stata una sedimentazione un costruire questo artificio questa mostruosità quel passare dei secoli cancellando quello che prima c'era insomma perché appunto se voi pensate che gli autori antichi classici secondo stime molto attendibili c'è rimasto un quarantesimo di quello che girava all'epoca quel resto che è mancato perché è mancato perché non per dimenticanza ma perché qualcuno distrutto sistematicamente con metodo con razionalità con un progetto con un piano ben preciso l'ha cancellato la torna del monoteismo passa sempre tramite la distruzione e la cancellazione delle cose vi ricordo che fra le altre cose c'è una mostra al Louvre dove sono esposte le statue del tempio di Serafide che quando venne distrutto dai cristiani venne ammazzata anche i pazzi in quell'epoca furono fatte a pezzi e buttate in mare grazie di averle buttate in mare sono state salvate ripescate rimesse a posto e stanno a Louvre c'è una mostra particolare su quelle statue fate un po' voi e che non tutto è stato ripescato perché logicamente come sempre i finanziamenti si trovano per altre cose ma non si trovano per cose importanti però già questo fatto che appunto da Alessandri è stato recuperato moltissimo di quello che è finito sotto il mare è una cosa che permette di riscrivere un po' la storia infatti va bene passiamo un po' l'attualità Francesca che c'è in corso questa rivolta anticlericale è giusto chiamarla anticlericale fra le persone rispetto al comportamento che ha avuto la chiesa cattolica rispetto a caso Welby insomma ed è io ho letto alcune cosette qua e là effettivamente io penso che Ratzinger dovrebbe mettersi un po' le mani nei capelli per quello che ha combinato e per quello che ha fatto ma sai io sono dell'avviso che la chiesa cattolica si sia comportata in maniera corretta sul caso Welby anche perché noi lo diciamo sempre se voi andate dal buon pastore e voi siete le pecorelle il buon pastore gli riconoscete il diritto di portarvi quando decide lui alla macellazione di conseguenza voi vi sottomettete la cosa basilare in tutti i monoteismi che sia ebraico o musulmano cristiano è la sottomissione di conseguenza se voi non accettate non riconoscete la sottomissione e non vi sottoponete alla sottomissione siete non siete cristiani potete raccontare tutte le storie che volete potete giustificarvi dire però il cristianesimo il monoteismo è sottomissione ci sono state tante affermazioni diverse per esempio si è detto che il capo della cosca della Magliana Roma è sepolto con tutti gli onori all'interno di una chiesa romana molto importante con tutti gli onori è stato sepolto Pinochet con tutti gli onori è stato sepolto anche quella guardia svizzera che aveva assassinato il suo comandante che si era suicidata beh nel caso di Pinochet tutti quanti conoscono nel senso che è un'altra famosa per quello che ha fatto per come si è comportato per la realtà che ha creato ricordiamo che quando Giovanni Paolo II il bravo Papa è andato in Cile è andato a salutare si è fatto fotografare assieme a Pinochet che quando Pinochet è stato arrestato a Londra è intervenuto per difendere l'anziano dittatore dalla sofferenza e farlo riportare in Cile e di conseguenza quando ci furono tensioni tra il Cile e l'Argentina intervengono i buoni uffici del Vaticano di conseguenza Pinochet è sempre stato un buon cristiano questo è in effetti è quello che sfugge ai cattolici che per noi invece è molto chiaro la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica non applica delle regole a se stessa lei a se stessa applica una sola regola il potere per il potere il dominio sull'uomo il possesso dell'individuo e lei è al di fuori delle regole è al di fuori della legge dopo vi dirò qualcosina leggendovi magari quello che sta succedendo in un processo a San Francisco per cui lei ha il diritto di fare qualunque cosa e nessuno ha il diritto di sindacare nessun cristiano ha il diritto di sindacare su ciò che decide della Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica è padrona delle persone domina i credenti i credenti devono messersi in ginocchio e devono accettare tutto quello che fa la Chiesa Cattolica se la Chiesa Cattolica gli dice che i suoi fedeli devono morire con i ferri roventi infilati nel culo la Chiesa Cattolica ha il diritto di infilare i ferri roventi nel culo chiaramente questo non è accettato dalle leggi civili ma la Chiesa Cattolica non vuole avere niente a che fare con le leggi civili la Chiesa Cattolica è al di fuori delle leggi civili vedete poi il discorso del caso Guelby di fronte a una persona che soffre così come minimo una persona che ha una sensibilità si rende conto che non era certo una condizione positiva non era certo una condizione esaltante o una situazione che poteva perdurare di fronte alla volontà qualsiasi persona non avrebbe conosciuto questo diritto ma perché i cristiani si arrabbiano perché Guelby ha scelto di morire e ha chiesto la morte beh lo troviamo quello che scrive un cattolico e prendo la citazione dal giornale del 22 dicembre dice su un sito dei cattolici romani c'è scritto uno che dice veda le sue sofferenze non come un'infame prigione ma come un'unione alle pene di Gesù sul Calvario i monoteisti hanno sempre il bisogno di pensare che tramite la sofferenza ci rende simili a Cristo di conseguenza più Guelby per loro soffriva e più era simile a Cristo non importava la sua sofferenza sul fatto che non fosse dignitosa quella vita o che fosse una vita augurabile o che fosse vita perché sinceramente io ho difficoltà a pensare che Guelby come in un modo in cui viveva fosse vita eppure tutti quanti i cattolici il loro codazzo da cominciare da tutti quanti i carichetti di tutti quanti i pareri politici Guelby doveva soffrire doveva soffrire perché la sofferenza non è certo una cosa augurabile non è una cosa auspicabile e se esiste la possibilità di fronte alla volontà di una persona di non soffrire dovremmo riconoscere il diritto di non soffrire no per i cattolici per i cristiani Guelby doveva soffrire perché la sofferenza lo rendeva simile a Cristo e il fatto che si sia sottratto all'imitazione di Cristo diventa logicamente un blasfemo un apostol perché rinnega la sofferenza di Cristo e questo appartiene a tutte quante le coscienze cristiane a tutte le mentalità cristiane perché la sofferenza il fatto di essere feriti il fatto di essere colpiti è presente in qualsiasi visione monoteistica pensate che proprio oggi vediamo se se lo recupero è un uscito una lettera sul Corriere della Sera di un rappresentante di comunione e liberazione però vorrei appunto farvi la citazione in maniera giusta così ci sappiamo ci sappiamo comprendere e sappiamo capire cosa è che dove devono arrivare loro allora questo qua è il presidente di comunione e liberazione e di fronte al Natale noi potremmo usare come festa si colpire affascinare meravigliare della cosa no lui dice che il Natale così il Natale è una speranza per tutti basta guardare e lasciarsi ferire ma perché si deve usare una parola come ferire cioè colpire e soffrire perché questo qui è il presidente di comunione e liberazione dei cattolici integralisti fondamentalisti ben visti in Vaticano benissimo allora di fronte a una cosa in cui si potrebbe parlare di festa di gioia di fascinazione di seduzione di inganno di effetto spettacolare e tutte queste parole si potrebbero utilizzare no lui cita che bisogna lasciarsi ferire che poi venga messo fra virgolette già l'uso della parola ferire significa una sofferenza e questo proprio perché in tutti quanti i monoteistici c'è questo bisogno di far soffrire le persone leggo un attimino l'articolo Francesco durante il corso un processo a San Francisco dove la chiesa cattolica è citata per il genocidio genocidio cioè decine di migliaia di persone assassinate nella ex Jugoslavia durante l'ultima guerra e niente metteteci un po' di attenzione per riuscire a capire come la chiesa cattolica giustifica quello che ha fatto atroci racconti di assassini e torture come il papa giustifica gli omicidi e la pagina è presa dal sito www.pressante.com barra contenent barra vie 320 barra 44 barra in un recente interrogatorio l'avvocato difensore di papa Benedetto XVI nel processo alberin contro il Vaticano ha ammesso che il Vaticano era coinvolto nel genocidio commesso in Croazia durante la seconda guerra mondiale quando furono uccisi mezzo milione fra serbi ed ebrei mezzo milione 500 mila persone ok il Vaticano ha massacrato 500 mila persone è assodato che la Santa Sede collaborò con il partito nazionale socialista di lavoratori tedeschi per perpetrare questo orrendo crimine sicché Jonathan Levi avvocato delle vittime della carneficina sta ora tentando di ottenere dei risarcimenti per i suoi assistiti accusando la banca del Vaticano di aver lavato denaro sporco frutto dei genocidi nel periodo post bellico ciò che è incredibile su tale processo istruito presso la corte federale di San Francisco oltre al silenzio di media su tale atrocità è la sfrontatezza del difensore del Papa che ha giustificato la partecipazione allo sterminio come atto consentito dalle leggi internazionali vi ripeto sterminare 500 mila persone per il difensore di Ratzinger cioè per Ratzinger perché vi ricordo che il difensore rappresenta l'imputato sterminare 500 mila persone è un atto consentito dalle leggi internazionali io non so quali leggi lui abbia letto beh la Bibbia si ah la Bibbia giusto hai ragione se la dimenticavo solo che io non la consideravo una legge la consideravo una porcheria sebbene il procuratore abbia tagliato corto dicendo che la chiesa di Roma è il di sopra delle leggi e i suoi bizzarri argomenti sono conformi al diritto canonico secondo il quale secondo il diritto canonico dice la chiesa cattolica ha il diritto di uccidere gli eretici senza che ciò sia una violazione delle norme internazionali della chiesa stessa cioè la chiesa in pratica dice io vi posso ammazzare tutti e ammazzandovi tutti io non violo le mie norme beh mi sembra il mafioso Totò Reina che dice io vi posso ammazzare tutti perché non violo le regole della mafia cioè è la stessa cosa cioè non cambia assolutamente cioè Ratzinger Reina e Totò Reina in questo caso sono uguali beh infatti tutti i mafiosi hanno avuto i funerali religiosi fra le altre cose allora gli eretici dice sempre sono coloro che non offrono la loro realtà lealtà al Papa e non seguono la dottrina di Cristo agli occhi di Roma ciò giustifica l'assassinio di innocenti come serbi ed ebrei durante la seconda guerra mondiale l'autore di Vatican Assassins Eric Joe Fields ricorda che l'attuale diritto canonico ancora in vigore legittima l'omicidio nei casi sopra citati pertanto la chiesa è un'organizzazione di assassini comunque anche se non è stato accettato come prova il processo è stato recentemente diffuso un documento filmato che mostra la convivenza fra Vaticano e nazisti nel campo di sterminio di Jasenovac dove furono massacrati serbi ortodossi ebrei e rom dagli ustasha i fascisti croati che applicavano ferocemente leggi razziali promulgate in Germania le immagini del documentario permettono di scoprire il vergognoso ruolo del Vaticano nel genocidio e il documentario è in rete comunque a Francesco gli attori stanno ancora cercando di ottenere la restituzione del tesoro nazista e croato che fu illecitamente trasferito allo Ior dallo Ior in altri istituti di credito Levi ha aggiunto che presto gli autori del libro La guerra segreta contro gli ebrei pubblicheranno un altro saggio Trinità blasfema che esplora i collegamenti tra il Vaticano e di nazisti con nuove agghiaccianti informazioni che ridefiniscono il ruolo della Chiesa Cattolica nella storia del ventesimo secolo questo è un processo che è in corso beh da te lo sono stato onesti ora al di là di questo comunque va del processo le dichiarazioni del difensore di Ratzinger dico comunque va del processo sono tali per definire Ratzinger un terrorista un criminale un assassino e questo è strano perché c'è appena stata la condanna a Verona di Abel Smith perché Abel Smith ha dato del criminale a Ratzinger ha dato dei criminali alla Chiesa Cattolica ora a prescindere in questo caso bisogna che aspettiamo l'ultima sentenza della Cassazione però effettivamente detto da un musulmano la cosa appare in specie cioè non so quanta differenza ci possa essere tra cristianesimo e musulmani da questo punto di vista nessuna appunto cioè mi sembra come la sentenza fatta dalla Cassazione rispetto al al gomiero qua a Laris i cattolici che insultarono i testimoni di Geova dettano i testimoni di Geova di rovina famiglie non so cosa sia la Chiesa Cattolica chiaramente furono condannati i cattolici Francesco vuoi aggiungere qualcosa su questo? beh sai il discorso dà anche la dimostrazione del perché i cattolici la Chiesa Cattolica si sia così impegnata nel discorso di Guelby nel volerlo farle soffrire se voi pensate che un quotidiano italiano parlando proprio del caso di Guelby ha detto ha intitolato ha fatto un articolo di prima pagina dicendo la Chiesa è la teoria è la ferocia dei principi ortodossi cioè un quotidiano arriva tranquillamente a dire che i principi della Chiesa Cattolica i valori in cui si riconoscono sono della ferocia ma la dichiarazione che Claudio ha riportato che non conoscevo dice chiaramente che la Chiesa Cattolica reputa nella sua prassi nelle sue intenzioni nei suoi desideri nella sua volontà ma è negata perché la natura è intrinseca del suo messaggio di quello che pensa è quello di uccidere gli altri di far soffrire gli altri se non li può uccidere almeno vuole costringere le persone a dover soffrire a dover morire nella sofferenza come nel caso di Guelby e il fatto che si siano così schierati che non abbiano avuto problemi di immagine di gente che si lamentava hanno giustamente ribadito un discorso di dire noi abbiamo il potere assoluto e d'altronde sai nel momento in cui dicono una messa per perdonare chi lo ha ucciso ma lo ha veramente ucciso ma la volontà di Guelby non contava assolutamente niente cos'è che aveva richiesto aveva richiesto un pacchetto di caramelle o aveva richiesto di non soffrire più eppure per loro di fronte una persona che a seconda la volontà di un'altra persona si parla di omicidio siccome io ho memoria storica almeno in alcune cosette tante me le dimentico purtroppo io ricordo quando la chiesa cattolica fece l'eutanasia a Voitila per farlo morire io non l'ho dimenticato o ce lo siamo dimenticati che la chiesa cattolica ha fatto l'eutanasia a Voitila gli ha staccato le macchine gli ha interrotto tutto e forse ha fatto anche qualche altro intervento per mettere fine alla sua vita io non me lo sono dimenticato cioè il fatto che la chiesa cattolica possa nascondere le cose non significa che le cose non esistano la chiesa cattolica ha fatto l'eutanasia a Voitila e l'ha fatta in maniera becera molto più pesante ma sai qualcuno sostiene ma esiste un libro che non ho recuperato che è in giro che esistava alcuni anni fa in cui la chiesa cattolica avesse come metodo il fatto di far arrivare il pontefice a una certa età raggiunta questa età non se ne curava più della loro sopravvivenza del loro mantenimento dell'andare avanti ma li lasciava anche morire proprio perché per qualche sai le follie dei principi cristiani monotristi sono forti secondo questo autore di cui non ricordo l'autore neanche il dito del libro che parlava del corpo del pontefice diceva chiaramente la chiesa cattolica per un principio assurdo reputa che un pontefice che un suo capo deve vivere fino a una certa età raggiunta quella età non se ne prende più cura di mantenerlo in vita e d'altronde di fronte sai al fatto che faccia questo con un suo capo può permettersi il lusso di dire agli altri di soffrire d'altronde sai sul caso di Guelvi quando un monsignore dice il suo caso è stato politizzato ora è difficile capire se quella richiesta fosse lecita o meno questa la prendo dal giornale se è una dichiarazione di Tonini no Elio sgrecia ma c'è una dichiarazione simile a Tonini allora tutti quanti noi se andiamo su Youtube troviamo il video in cui Guelvi dice io non voglio più soffrire così lo troviamo tutti lo possiamo verificare possiamo sapere qual è la sua intenzione e poi c'è qualche rappresentante della Chiesa Cattolica che dice che quella richiesta fosse lecita o meno se tu inserisci il dubbio qualcun altro dice eh ma potrebbe anche essere vero sì ma cioè non vanno direttamente a sputargli in faccia come dovrebbero fare le persone civili che traggono la verità o le cose da se stesse e vi dico forse sai potrebbe anche avere ragione non è mica detto che abbiano torto sai ma sai quando un altro vescovo dice è stato un fatto gravissimo non si può togliere la vita così a un uomo certo il ruogo è un luogo più a proposito più a proposito per poter togliere la vita a qualcuno per salvagli l'anima assassinare i diaretici sì ma vedi è che lo fanno loro sì esatto questa è la differenza sì ma invece c'è l'autodeterminazione dell'individuo e là non deve esserci l'autodeterminazione ma le persone hanno enorme difficoltà di comprendere questo cioè di capire il perché di questo comportamento in realtà ricordiamoci sempre che quello che vale per gli altri o che l'ho detto non per gli altri non vale per loro perché loro sono gli eletti loro sono i superiori loro rappresentano Dio di conseguenza possono fare qualsiasi cosa voi che non rappresentate Dio potete benissimo soffrire anzi dovete soffrire perché come diceva quel cattolico la sofferenza vi rende simile a Cristo e di conseguenza qualsiasi sofferenza che loro potranno arrecare la faranno sempre ricordate che il crocefisso è una minaccia cioè esporre il crocefisso significa minacciare di morte le persone ed è di una gravità infame che il crocefisso venga esposto ma se voi poi pensate anche a una cosa alla sentenza del tribunale di Roma in cui dice esiste il diritto di questo però non lo può esercitarlo perché non c'è la legge che gli permetta di esercitarlo questa sembra veramente la follia teologica del monoteismo questi sono uno squallore che purtroppo noi stiamo vivendo in Italia in questo periodo ma anche in altri periodi in cui si rimandano certe decisioni che sono piuttosto impegnative che sono piuttosto pesanti le si rimandano alle corti centrali e alle corti superiori cioè in pratica c'è una deresponsabilizzazione del magistrato la paura del magistrato di fare una sentenza perché probabilmente esistono delle aggressioni da parte delle istituzioni rispetto ai singoli magistrati che sono pesantissimi e specialmente i magistrati locali sono completamente paralizzati nell'applicazione del dettato costituzionale siamo in una situazione veramente atroce in realtà la legge c'è per fare questo in quanto non c'è nessuna legge che lo vieti e questo è il punto però dal fatto che non esiste nessuna legge che lo vieti la volontà del singolo individuo resta quella sotto la monarchia cioè come il potere monarchico disponeva delle persone disponeva della vita delle persone molti magistrati ritengono che ancora il potere istituzionale detenga il diritto della vita delle singole persone dimenticandosi che non solo c'è una costituzione nazionale ma c'è stata anche una costituzione europea ci sono i diritti dell'ONU delle persone la carta firmata dall'Italia ci sono i diritti dell'uomo ci sono tutta una serie di convenzioni internazionali che sono state ratificate e ci sono dimenticano questo cioè è talmente forte il catechismo l'idea che l'uomo in ginocchio disposto del padrone è sottomesso a quello che si identifica col padrone che ci si dimentica che esiste il diritto internazionale e questo fatto da magistrati non fatto semplicemente da persone normali beh d'altronde sai la sofferenza la violenza è un classico sai quando leggiamo nella Bibbia un re che è citato per la sua giustizia dice chi risparmia il bastone odia suo figlio questo è il famoso Salamone considerato re della giustizia che dice chi risparmia il bastone odia suo figlio e d'altronde essendo parola di Dio essendo un testo fondamentale questa è l'educazione che si vorrebbe fare soltanto negli ultimi 15 anni vi ricordo che la corte di Cassazione e la corte costituzionale hanno cominciato a tagliare questo tipo di comportamenti in Inghilterra hanno fatto una legge qualche anno fa di conseguenza appunto pensate che allora prendiamo sempre un'altra massima all'uomo la moglie al bambino la verga nel senso del bastone questi sono gli insegnamenti che ancora adesso sono alla base della religione cattolica sono in base del cristianesimo sono in base a tutti quanti i monoteismi e di conseguenza sofferenza in posizione violenza è un qualcosa che definisce chiaramente cosa è il monoteismo sai dopo c'è qualcuno che cerca anche di di cercare una via di scampo alla chiesa cattolica perché quando dice Massimo Cacciari dice la trincea della chiesa non può reggere per noi moderni la libertà è inarrestabile vabbè sicuramente Cacciari è uno dei baluardi della chiesa cattolica insomma sì ma lui si rende conto che è una situazione del genere però vedete di fronte anche a un discorso di convenienza uno poteva dire nel caso di Guelbi sfruttiamo la convenienza sfruttiamo il fattore emotivo sfruttiamo il successo che ha nell'opinione pubblica questo dramma perché non era un dramma teorico non era un problema di una finanziaria era la sofferenza di una persona ben concreta non era un individuo X era una persona con il suo nome e cognome con la sua storia con tutto quello che le persone sapevano di conseguenza parlavamo di una persona specifica di una richiesta specifica non si parlava di un principio astratto benissimo non si parlava di un principio astratto eppure la chiesa cattolica e i cristiani si sono trovati d'accordo nel dire no questa persona deve soffrire perché non si diceva tutti si diceva lui lui ha chiesto questo lui è così cosa facciamo e di fronte a un caso specifico no la risposta è quella deve soffrire e la sofferenza fa parte e il desiderio del discorso della religione cattolica insomma vogliamo dare una piccola dimostrazione dai io ho preso un libro che è uscito in Inghilterra nel 1968 è considerato un classico ed è uscito nel 2006 cosa ha di così scandaloso questo libro è storia delle punizioni corporali e perché è così scandaloso perché dice l'ego della quarta copertina si sofferma sugli aspetti erotici della flagelazione mostrando come la come la componente di frustrazione e repressione sessuale abbia sempre avuto un ruolo importante soprattutto nell'ambito della penitenza cattolica questo e questo autore test fondamentale a livello mondiale uscito nel 1968 ha dovuto aspettare il 2006 per vedere 40 anni per essere tradotto e pubblicato in Italia perché? perché dimostra che proprio la sofferenza la violenza l'imposizione la violenza è una cosa caratteristica di ogni monoteismo nel caso nostro che viviamo nella realtà cattolica è questo che succede io qui ho una una sentenza sul crocifisso da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che ci ha messo dieci mesi prima di essere cioè prima si fa la condanna della persona prima si condanna la persona dopo si dice sì la persona ha ragione cioè che è una cosa abbastanza secondo me stanno tutti aspettando la corte di Cassazione anche sul crocifisso niente ve la vorrei leggere Francesco mi do perché è una sentenza fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura in base al provvedimento disciplinare del giudice Tosti se vi ricordate che non voleva il crocifisso in aula ebbene il 31 gennaio ora leggo tirata fuori dal sito dal sito no chiesa no mi sembra che sia acteismo Cassi è no chiesa è no chiesa punto blogspot punto com di Tosti che dopo l'ha preso anche gli altri il 31 gennaio scorso il Consiglio Superiore della Magistratura ha combinato la sospensione cautelare dalle funzioni dallo stipendio al giudice di Camerino Luigi Tosti perché si è rifiutato di tenere le udienze sia perché il Ministro di Giustizia ha omesso di rimuovere i crocifissi cattolici dalle aule sia perché soprattutto lo ha discriminato negandogli il pari diritto di esporre il proprio simbolo cioè la Memorà ebraica la motivazione dell'ordinanza è stata comunicata al diretto interessato il 20 dicembre cioè a distanza di ben 11 mesi il Consiglio Superiore della Magistratura commenta con un misto di soddisfazione e disconcerto il Dottor Tosti ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata ripeto il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata dal momento che la circolare fascista del Ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata sin dal 1948 per incompatibilità con la Costituzione repubblicana innanzitutto perché tratta di un atto amministrativo privo di fondamento normativo e quindi contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'amministrazione da una norma tant'è soggiunge il Consiglio Superiore della Magistratura che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi cioè per avere il ritratto del Presidente della Repubblica negli uffici pubblici è stata necessaria una legge in contrasto con il principio costituzionale di leicità dello Stato e con la garanzia di libertà di coscienza e di religione essendo pacifico in tal senso Cassazione sezioni riunite 18 11 1997 numero 11 1432 sezioni disciplinare 15 9 2004 Sansa che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a Costituzione ne consegue da un lato che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante imparziale e neutrale e dall'altro che l'ordine delle questioni religiose e quelle delle questioni civili debbono rimanere separati con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato la libertà di coscienza e la libertà di religione devono essere lette come affermazione non solo positiva di tutela delle convinzioni e della fede professata ma anche in senso negativo come tutela di chi rifiuti di avere una fede e pertanto deve essere garantita sia i credenti che i non credenti siano essi atei e agnostici dal carattere fondante della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'uguaglianza di materia religiosa il dato quantitativo all'adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione non può essere rilevante alla luce di rilievi ora svolti appare convincente la tesi dell'incolpato secondo la quale l'esposizione del crocefisso nelle aule di giustizia in funzione solenne di ammonimento di verità e giustizia costituisce un'utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato del pari persuasiva sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia ai quali i cittadini sono tenuti può provocare nei non credenti turbamenti casi di coscienza conflitto di realtà fra i doveri del cittadino e la fedeltà delle proprie istituzioni e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione il Consiglio Superiore della Magistratura boccia poi esplicitamente le sentenze del Tad del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione di crocefissi nelle scuole per la loro supposta valenza culturale anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocefisso e chiarisce il Consiglio Superiore della Magistratura il problema della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale ma non sarebbe risolto in quanto dei principi costituzionali in precedenti individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione della cultura nazionale sia pure largamente maggioritaria a discapito di altri minoritari in contrasto con il progetto costituzionale di una società in cui hanno da convivere fedi culture e tradizioni diverse e il resto ve lo lascio a voi il Consiglio Superiore della Magistratura ha detto che il Tar del Veneto ha fatto una grandissima porcata che i magistrati del Veneto si devono vergognare come dei topi di fogna questo lo aggiungo io tanto per secchiare dopo se qualcuno qualche magistrato vuole dirmi qualcosa discutiamo del linguaggio dei magistrati e ha detto che il Consiglio di Stato che ha promulgato il crocefisso ha fatto una grandissima porcata ha offeso le persone ha fatto un atto di aversione dell'ordine democratico e questo lo aggiungo io se non mi fa dopodiché se volete ne discuto io con i magistrati se loro non gli piace quello che io ho detto Francesco come vedi dieci mesi per chi venga fuori questa poi tra l'altro i giornali non l'hanno certo riportata non l'hanno riportato niente non l'hanno fatto certo conoscere non l'hanno diffusa rimane il fatto appunto del giudice Tosti sospeso e del fatto che questo mostro del crocefisso sia ancora in zio nonostante che non ci sia nessun obbligo ma d'altronde lo vediamo la volontà di imporre la propria caratteristica sulla società sulla cultura l'abbiamo in ogni momento se noi andiamo a vedere ad esempio un nuovo pericoloso terrorista che si aggira per l'Italia in questo periodo che sia un terrorista terrificante Babbo Natale che si aggira l'abbiamo in ogni momento che si aggira la propria caratteristica mi piace che si aggira la propria caratteristica nonostante che si aggira